Bella raga, battiamo 2-1 il Sassuolo, risultato importante, comunque anche oggi una fatica micidiale. Capisco e ci sta alla grande vincere col Barcellona con fatica, perché non ho potuto neanche fare il video dopo, perché ero esausto, letteralmente esausto dopo la partita col Barcellona. Ma oggi mi aspettavo qualcosina di più ragazzi, sinceramente. Voglio essere sincero, è inutile che adesso salgo sul carro, perché dopo il pareggio di Fratesi li ho insultati per 20 minuti in interrottamento. Ho insultato anche il televisore, perché veramente mi ero rotto le scatole tutte le volte. Fratesi solo come un cane, solitario nella notte, voglio dire, ma non esiste. C'è un giocatore buono, c'è il Sassuolo che è Fratesi e si fa una sgroppata dove quello più vicino era a 5 metri, non esiste. Quindi mi hanno fatto schizzare letteralmente, ho insultato anche il televisore. Comunque, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene, come diceva il caro Rezzonico. E quindi ragazzi, ci prendiamo ben volentieri questa vittoria, ci prendiamo ben volentieri questi tre punti, e ci mettiamo a vedere Milan-Juventus, dove se la matematica non è un'opinione, su qualcuna delle due stasera recuperiamo. Per cui dobbiamo prendere anche i lati positivi, resta il fatto che facciamo una fatica della Madonna proprio, una cosa incredibile, guarda. Poi qualcuno inebriato dalla vittoria vedrà tanti lati positivi, io oggi ho visto solamente tanta fatica, che però ci sta anche perché, voglio dire, ti manca Brozovic, ti manca Lukaku, e a dispetto di quello che vanno raccontando i soloni, quelli che se ne intendono, quelli che se ne intendono, l'Inter sta andando avanti aggrappandosi ad una mummia, che è Edin Dzeko, che è un giocatore onorevolissimo, un giocatore che nonostante fisicamente sia calato tanto, è uno che ancora spiega calcio, sa come si gioca calcio e quindi sa quello che deve fare in campo, anche se lo fa il rallentatore, ma noi siamo aggrappati ad Edin Dzeko, capito? Una grande squadra, avessimo tutto sto fior fior di rosa che vanno in giro decantando, l'Inter ha la rosa migliore della Serie A, l'Inter cosa? Cosa? Che giochiamo davanti con Edin Dzeko? E che c'è Lautaro che la porta la sta vedendo piccola come il pisello di non so chi, guarda. Dai, siamo sinceri, facciamo una fatica bestiale anche perché abbiamo dei ricambi che fanno un po' pena. Anche Mkhitaryan oggi ha fatto l'assist, ma non lo so, su gol di Fratesi l'ho puntato bene bene. Devo dire che sono anche i cavoli loro stasera perché secondo me, con tutto quello che gli ho mandato, qualcuno di quelli che giocava stasera la passa nel bagno, secondo me, ve lo dico io. Ci devono dormire in bagno sopra la tazza del cesso perché non si riesce a fare mai sto 2-0, a mettere la partita su un piano favorevole, bene per noi, ben indirizzato, tocca sempre sputare sangue. E comunque ragazzi, alla fine, adesso c'è la partita col Barcellona, dove ci hanno risparmiato le 4 papine prima, probabilmente ce ne daranno a Barcellona perché non sono qui per illudere nessuno. Di positivo vedo che si è data continuità a Donana, così leviamo anche un alibi che è quello di Andanovic, visto che dicevano tutti che ogni occasione che subivamo era gol. E chissà come mai succedevano queste cose, forse perché giocavamo a porta libera? Comunque ragazzi, becchiamoci questi tre punti. Ci guardiamo Milan-Juventus, dove non c'è niente da gufare, c'è da sperare solamente in un pareggio. e speriamo che mentalmente sia il momento di sbloccarsi e prendere consapevolezza, fiducia e come un treno cominciare un pochino a macinare un po' di continuità. Tappa dopo tappa, pezzo dopo pezzo, dobbiamo andare a mangiarci quello che abbiamo sprecato e che abbiamo buttato via. Quindi, bella raga, come sempre per me c'è solo l'Inter.